Tuffandosi dalle parti dell'esperto estremo difensore ospite Massimo Negro, che al ventonesimo deve arrendersi alla prodezza di Di Sant'Antonio. Brenisino, classe 83, che bagna così il suo esordio nello stadio della sua città. Mesagni 1, Casarano 1, e diventano nuovamente quattro le lunghezze in classifica tra le due formazioni. I gialloblu a questo punto credono di poter portare a casa l'intera posta in palio, ma è solo un'illusione perché l'undi...